tre appuntamenti veloci la prima, mi raccomando lì c'è un banchetto con le bandiere compratele, costano 5 euro noi le paghiamo 2,50 euro 1,50 euro sono per finanziare il movimento che pensiamo che un'altra cosa bella è rendere queste cose trasparenti per caso non avete i soldi per comprare le robatele, però mi raccomando mettetele ai balconi, perché c'è bisogno di fare questa cosa la seconda cosa è il fatto per tutti gli arpatesi che la prossima riunione del comitato di Arquata sarà martedì sera alle 21 alla biblioteca d'Arquata l'ultima volta eravamo in 40 a trovarci senza averla pubblicizzata questa volta dovremo essere molti di più mi raccomando la terza e ultima cosa riguarda il fatto che domenica la benedicta c'è la commemorazione dei martiri della benedicta la riunione di coordinamento dei comitati ha deciso che il movimento Notav sarà la benedicta perché questo è un movimento in cui c'è spazio per tutti questo è un movimento in cui c'è spazio per tutti i valori della resistenza grazie a tutti a 6 a 2 con il fatto è un fatto di maniera grazie a tutti 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 grazie a tutti